Siamo col sindaco uscente Annati Nivella che è essere candidata alle elezioni amministrative di maggio. La presentazione delle liste si è spinto molto sulla continuità. Cosa si aspetta e come si aspetta la risposta dei cittadini? Io spero che i cittadini possano confermare la fiducia che mi hanno dato cinque anni fa, anzi aumentandola, perché tante cose abbiamo fatto, tanto lavoro è stato compiuto in questi cinque anni, a fianco delle associazioni, a fianco delle istituzioni, sempre con grande armonia, con grande accordo e molto determinati. Con trasparenza, ciascuno di noi ha fatto il proprio lavoro perché ci ha creduto e lo ha fatto per il bene di Borgo Manero.